Ciao, sono Joy, una polimeccanica al secondo anno di apprendistato e oggi vi faccio vedere cosa faccio. Ho scelto questa professione che anche mi ha colpito fin da subito dato che è un lavoro fondato sulla precisione e che non conosco in molti. Credo che una parte fondamentale del mio lavoro sia una parte astratta, cioè il fatto di immaginarsi prima un pezzo e una propriamente e poi andare a fabbricarlo. Come in molti lavori, anche questo è importante la parte della scuola dove vediamo dei concetti che poi andiamo a mettere in pratica appunto al lavoro. Nel lavoro del polimeccanico esiste anche la parte di progettazione dei mezzi che avviene tramite dei programmi CAD sul computer. Qui vediamo il disegno esplodo con una salvista in 3D di questo caricatore wireless a forma di 2D ed elettrica Venture. Qui di fianco il caricatore è terminato, costruito con la stampante 3D.